Stasera, giovedì 1 settembre 2022, Andrà in onda su Rai 1, un nuovo film del ciclo pur che finisca bene, il titolo è basta un paio di baffi, scopriamo di cosa parla la trama, chi sono gli attori del cast e tutto quel che c'è da sapere per seguirlo al meglio Stasera, giovedì 1 settembre 2022, Andrà in onda su Rai 1, un nuovo film del ciclo pur che finisca bene, il titolo è basta un paio di baffi, scopriamo di cosa parla la trama, chi sono gli attori del cast e tutto quel che c'è da sapere per seguirlo al meglio Leggi anche, l'amantide quando vai in onda, quante puntate sono? Data ultima puntata pur che finisca bene, cosa è? Pur che finisca bene è un progetto cinematografico che comprende un ciclo di film tv che fanno del romanticismo e del lieto fine il loro punto di forza e la loro caratteristica fondamentale La saga, arrivata alla quinta stagione, è iniziata nel 2014 a 13 film già realizzati alle spalle La serie è prodotta da Pepito Produzioni per Rai Fiction Basta un paio di baffi stasera su Rai 1, trama il film di stasera di Rai 1, che fa parte del ciclo pur che finisca bene, è basta un paio di baffi, scopriamo chi saranno i protagonisti della storia e la trama Cast, chi sono gli attori? Di seguito il cast del film con il nome degli attori protagonisti e i personaggi di riferimento del film Antonia Lescova interpreta la protagonista Sara Sergio Assisi interpreta Luca Marco Bonini interpreta Sergio Euridice Axen interpreta Giada del re Teresa Saponangelo interpreta Paola Michele De Virgilio interpreta Alberto Giuni Cicoa interpreta Chico Zun Claudia Lerro interpreta Flavia Francesco Zecca interpreta Ernesto e a voi ha convinto la trama di Basta un paio di baffi, seguirete il film della saga pur che finisca bene, in onda stasera su Rai 1? Restate aggiornati con per scoprire in anteprima tutte le news in merito E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video